La soppopera Beautiful, che da decenni tiene incollati milioni di spettatori in tutto il mondo, continua a riservare emozioni e colpi di scena nelle sue intricate trame amorose e familiari. La puntata di domani, martedì 22 ottobre, promette nuovi sviluppi che metteranno in discussione le relazioni tra i protagonisti principali. In particolare, i riflettori saranno puntati su Taylor, Ridge, Brooke e Deacon. Nella puntata di Beautiful di domani, Taylor Ace, Christa Allen, la dottoressa psichiatra da sempre legata a Ridge Forrester, Thorsten K, e madre di due dei suoi figli, scopre una notizia che la lascia contenta. Viene infatti a sapere che Deacon Sharp, Sean Cannon, l'eterno outsider in cerca di riscatto, ha invitato Brooke Logan, Katrin Kelly Lang, a Il Giardino, il ristorante dove lui lavora come gestore. Questa mossa non sorprende del tutto la Ace, poiché la donna è convinta che l'ex Galeotto stia seguendo un consiglio che proprio lei gli aveva dato, fare un tentativo per riconquistare la bionda. Taylor conosce bene i sentimenti che legano Deacon a Brooke, e sa quanto lo Sharp soffra ancora per il passato con la madre di sua figlia, Hope Logan, Annika Noel. Tuttavia, la Ace non si aspettava che Deacon avrebbe avuto il coraggio di agire così in fretta. Questo risveglia nella psichiatra una serie di riflessioni e, trovandosi sola con Ridge, decide di affrontare finalmente una verità che per lungo tempo ha cercato di ignorare e tacere, fingendo l'amicizia con l'eterna rivale Logan. Beautiful, anticipazioni di domani? Cosa succede nella sopopera martedì 22 ottobre 2024? Nel cuore dell'episodio, vedremo un momento di intensa emotività tra Taylor e Ridge. Da sola con l'uomo che ha amato per tanti anni, la donna coglie l'occasione per confessargli che il suo affetto per lui non si è mai spento. Nonostante il legame indissolubile che hanno sempre condiviso grazie ai loro figli, Steffi, Jacqueline Machingwood, e Thomas, Matthew Atkinson, la Ace ammette di provare ancora qualcosa di profondo per il Forrester. La sua confessione arriva in un momento delicato, con lo stilista diviso tra la sua storica attrazione per Brooke e i ricordi del passato con Lex. Nel frattempo, al ristorante Il Giardino, Deacon approfitta dell'invito a cena per riprovare a fare breccia nel cuore di Brooke. La madre di Hope, pur apprezzando il gesto dello Sharp, rimane sorpresa dal suo atteggiamento. La Logan, che ha più volte ribadito all'ex di Sheila che tra loro non può esserci un ritorno di fiamma, non può fare a meno di notare un certo cambiamento nel suo comportamento. Ad estare i sospetti della bionda è proprio la determinazione con cui l'altro cerca di sedurla di nuovo. Alla fine, mette l'uomo alle strette, e quest'ultimo, dopo un momento di esitazione, vuota il sacco confessando che qualcuno gli avrebbe consigliato di fare un tentativo. La puntata di domani di Beautiful, lascia presagire sviluppi importanti nelle relazioni tra Ridge, Taylor e Brooke, con Deacon che si ritrova al centro di questa intricata dinamica. La confessione della Hazel Forrester e il tentativo dello Sharp di riconquistare la Logan, potrebbero rimettere in moto vecchie tensioni e portare a nuovi scontri tra i personaggi. Chi avrà la meglio in questo triangolo amoroso? Non ci resta che attendere per scoprirlo.